E' stata fondamentale la tempestiva richiesta di intervento arrivata ai carabinieri della compagnia di Salerno per fermare il tentativo di truffa che due persone stavano per effettuare in via Sica, una stradina nei pressi di piazza Casalbore, a pochi passi dallo stadio vestuti nel centro di Salerno. Qui i militari dell'arma, gli ordini del maggiore Antonio Corvino e del capitano Malio Malaspina hanno individuato e fermato nella giornata di ieri due uomini originari del Piemonte che stavano tentando attraverso varie citofonate a far cadere nella trappola del nipote che chiede aiuto una coppia di anziani ed oggi proprio il comandante della compagnia di Salerno rivolge un appello a segnalare subito ogni gesto sospetto. Sì, è un'azione molto molto importante perché come abbiamo detto anche in altre circostanze è partita da una segnalazione fatta da chi è sul posto, quindi dal cittadino che ha visto due persone sospette. Ecco, quanto è importante segnalare tempestivamente in caso di allarmi o di sospetti? Fondamentale, fondamentale perché il cittadino è i nostri occhi sulla città in questo caso e soltanto una chiamata tempestiva ci consente un intervento ovviamente più tempestivo. State facendo indagini sull'episodio, se ce ne sono stati altri nei paraggi, se queste persone abbiano potuto già colpire? Sì, anche perché queste persone hanno precedenti specifici quindi non è escluso che abbiano già fatto altre truffe o tentate truffe sempre lì in zona. Ha raccolto parole di solidarietà, di vicinanza da parte degli anziani che potevano essere vittime di queste truffe, cosa le hanno detto? Ovviamente ce ne ho ringraziato ma questo è il nostro lavoro e io anche in questo caso ho ribadito che siamo stati bravi a intervenire ma soltanto perché chi ha chiamato lo ha fatto in maniera tempestiva. C'è il rischio che con l'estate gli anziani magari stiano più da soli perché il resto della famiglia è in vacanza, questi episodi possano essere maggiori? Sì, il rischio c'è, a prescindere dalla stagione il rischio è sempre alto, abbiamo visto diversi episodi anche nel corso dell'inverno quindi l'attenzione deve essere sempre al massimo. Quello che dico sempre è di chiamare tempestivamente quando ci si accorge di una situazione un po' sospetta, di una presenza di persone magari non note, chiamare, chiamare, chiamare sempre 112. Grazie a tutti.